Si è conclusa da qualche settimana la prima fase del Deep Drilling Project, il progetto internazionale di ricerca che studia la caldera dei campi flegrei per analizzare le condizioni geofisiche del sottosuolo e migliorare la conoscenza della struttura vulcanica e dei suoi meccanismi di attività. Dopo la prima indagine con un pozzo pilota di 500 metri, la perforazione proseguirà fino a raggiungere i 3.500 metri, fornendo dati che permetteranno di ottenere un modello scientifico più accurato dei fenomeni naturali della zona. Il progetto è coordinato dall'Osservatorio Vesuviano. Un primo punto sulla situazione è stato presentato nel convegno Ambiente, Geotermia, Sviluppo e Lavoro, organizzato al Comune di Napoli con i responsabili scientifici del progetto a confronto con altri esperti di vulcanologia e geotermia. Il Deep Drilling Project è un grande progetto internazionale finanziato da organizzazioni internazionali che mira a comprendere la dinamica del vulcanismo flegrei, in particolare a studiare i possibili meccanismi del bradisismo. Quest'area, i campi flegrei in particolare, ma tutta l'area napoletana perché sappiamo c'è il Vesuvio, Ischia, è un'area ad altissimo rischio vulcanico che solo la ricerca scientifica può mitigare. Ciò che ci interessa moltissimo in questo progetto è la possibilità di prendere campioni di rocce proprio in profondità e fare misure delle loro proprietà fisiche, perché fino adesso siamo stati costretti a prendere campioni solo da superficie e le rocce lì non sono uguali a quelle in profondità. Nessun modello può garantire, diciamo, ci sarà o non ci sarà un'orazione, però aiuterà a ridurre le possibilità, speriamo a meno, di ridurre le possibilità di un orore. Lo studio dell'area fornirà anche dati interessanti per ragionare sull'eventuale realizzazione di un impianto geotermico cittadino che potrebbe sfruttare la fonte naturale per produrre energia elettrica e calore. Secondo uno studio del MIT citato dal professor Gabbani dell'Università di Firenze, con l'energia geotermica teoricamente utilizzabile sul pianeta si potrebbe coprire l'intero fabbisogno mondiale di energia per 4.000 anni. E' stata fatta l'esatta stratigrafia del sito, stratigrafia che potrebbe essere utilizzata anche per un eventuale sviluppo geotermico dell'area napoletana con impianti a reiniezione, quindi a basso impatto ambientale e anche paesaggistico. Questo significherebbe impegnarsi in un settore ecosostenibile di energia veramente pulita e creare sviluppo e anche forme di occupazione. Abbiamo invitato anche coloro che si erano posti in maniera critica rispetto a questo tema e non sono venuti. Napoli aderisce al piano d'azione per l'energia sostenibile promosso dall'Unione Europea, che spinge verso soluzioni a basso impatto ambientale. Il vice sindaco Sodano ha sottolineato la responsabilità delle istituzioni nelle scelte di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Devo ribadire che non esistono quei rischi che sono stati paventati per la popolazione. Il rischio di una perforazione è un rischio di cantiere. Ci sono delle condizioni quando si fanno i carotaggi che possono innescare sismicità. Quali sono? Quando un pozzo viene stimolato, cioè si manda in pressione un fluido per renderlo più produttivo, ma non è questo il caso. L'altra condizione è quando si fratturano le rocce per aumentare le superfici di contatto tra i fluidi e le rocce calde. Non è neanche questo il caso. Quando si teme che ci possa essere qualche sacca di gas ad alta pressione e alta temperatura, questo è messo in bilancio. Per cui tutte le tecniche di perforazione sono pronte a bloccare il sistema. Tutto qui. Quindi niente di fantastico scientifico né di fantastico.